Mi è venuto in mente che quando ho fatto in Italia un corso simile a questo legato alla presentazione agli investitori, una delle primissime cose che mi hanno detto è mi raccomando non sparare dei numeri alti, loro preferiscono vedere dei numeri bassi ma concreti, reali, infatti ero felicissimo di aver messo ieri la frase non faremo billion ma faremo million per tanti anni, è stata completamente distrutta. Io non avevo idea di questa differenza tra il pitch, quello per impressionare e invece quello che fai in maniera più approfondita quando stai già parlando di business e questo ovviamente mi ha spiazzato completamente, sono arrivato qua sapendo cosa voler dire, in questo momento quasi non so che cosa fa la mia azienda e questo è positivo perché come ha detto Kimberley il primo giorno dovete mettervi in una situazione non confortevole per voi se volete crescere.